Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi ci occuperemo di un argomento molto interessante, vale a dire come si elaborano dei dati che provengono da una fonte esterna con un foglio di calcolo. Allora noi abbiamo, per esempio siamo andati nel sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e abbiamo queste serie storiche dei dati dei terremoti. Facciamo così, prendiamo una serie storica personalizzata, clicchiamo su personalizza ricerca e poi data di inizio clicchiamo e noi mettiamo per esempio 1 gennaio del 2021, la data della fine è il giorno di oggi, è il 25 di marzo del 2021, poi la magnitudine minima per esempio noi ci interessano i terremoti che vanno al di sopra del quarto grado, la massima al decimo, l'area tipo rettangolare va bene, l'area facciamo la nostra, il Mediterraneo e poi abbiamo già scelto tutto, la profondità va bene, facciamo cerca e abbiamo fatto una specie di ricerca filtrata dei terremoti degli ultimi tre mesi. Già possiamo vedere in questa serie storica di dati che ci sono delle delle occorrenze particolari, per esempio la Grecia e possiamo vedere anche la Croazia. Adesso noi che cosa facciamo? Come facciamo ad analizzare in un foglio di calcolo questa serie storica di date? Questo sito ci consente di esportare la lista, quindi noi clicchiamo su questa casellina di scesa e scegliamo proprio il formato testuale. Vedete che lui ci dà il tipico formato separato da virgole. In questi casi bisogna stare attenti, siccome alcuni valori hanno dei decimali separati dalle virgole, è bene non utilizzare la virgola come il delimitatore dei campi, il separatore dei campi, anche se vengono chiamati separati da virgole. Vedete che per esempio in questo caso viene utilizzato il pipe, il pipe sta in alto a sinistra sulla tastiera. E poi bisogna stare attenti che quando per esempio questi dati vengono da una serie storica che utilizza un software anglosassone, vedete che il delimitatore dei decimali è il punto. Quindi noi dovremmo modificare questo punto e trasformarlo in virgola perché in italiano in realtà il delimitatore dei decimali è la virgola. Quindi in questi fogli separati da virgole bisogna stare attenti che se ci sono dei dati coi decimali non utilizzare mai le virgole come separatore dei campi, ma si può utilizzare per esempio il pipe, il tabulatore e lo spazio. Allora noi lo selezioniamo tutto, questo foglio di testo, facciamo tasto destro, copia e poi andiamo immediatamente nel nostro foglio di calcolo e gli diciamo incolla ma come? Incolla testo senza la formattazione. Vediamo che ci si apre un pannellino. Lui adesso ci chiede, vedete ci chiede, ma qual è, facciamo così cancelliamolo, qual è il tipo di separatore, no? Lo dice che separa il calcolo. È il tabulatore? No, perché vediamo che i dati non si trasformano. È la virgola? No. È il punto e virgola? No. È lo spazio? No. Noi abbiamo visto che l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia utilizza il pipe. Lo facciamo? È maiuscolo e il tasto della barra. Vedete che adesso vengono separati. Abbiamo questo problema? Noi gli dobbiamo dire che questi campi, per esempio, provengono da un sistema anglosassone, quindi lo clicchiamo, facciamo tasto destro e gli diamo, vedete, gli diamo inglese. Lo clicchiamo, tasto destro e facciamo inglese, di modo che ci trasformi il punto dei decimali in virgola, perché in italiano è la virgola. Tasto destro inglese, vediamo se ce n'è un altro, c'è ancora la magnitudine, tasto destro inglese. Poi, già che ci siamo, possiamo togliere questi campi che non ci interessano. Facciamo control, togliamo anche l'autore, togliamo questo, questo e questo. Vediamo un po', togliamo questo qua, togliamo tutto quello che un pochino ci dà fastidio, e togliamo questo. Facciamo tasto destro e facciamo hide, nascondi. Abbiamo scelto il separatore dei campi. Abbiamo detto che la stringa di delimitazione del testo sono le virgolette, ma in questo caso non ci interessa, e abbiamo segnalato che qui ci sono dei punti come separatori dei decimali invece che la virgola, scrivendoci US English. Ok, vediamo che cosa ci dà. Vedete che ci dà il nostro foglio di calcolo un pochino più sistemato. Allora, noi adesso che cosa facciamo? Notiamo che nel campo time, noi ci scriviamo date, perché ci togliamo l'ora che non ci interessa. Vedete che all'interno di questo campo c'è un AT come delimitatore. Allora possiamo fare tasto destro, inserisci una colonna dopo, poi andiamo nella barra degli strumenti dati e facciamo testo a colonne, che significa dividere una colonna in più colonne. Ci riappare questo pannellino e gli diciamo che il separatore in realtà è un AT maiuscola. Appena io metto T vedete che ci separa la data dall'ora e adesso ci consente di eliminare l'ora che non ci interessa. Facciamo cancella la colonna e qui ci abbiamo scritto data. Allora, possiamo vedere che siccome gli abbiamo segnalato che alcuni campi avevano la caratteristica del punto come separatore, come delimitatore dei decimali, vedete noi li abbiamo segnati come US English e lui ce li ha riportati soprattutto subito in virgola, quindi adesso il foglio di calcolo non avrà problemi. La facciamo così, siccome in, questo lo chiamiamo semplicemente location. In GPS visualizer noi adesso vedremo questa serie storica, la trasformeremo in puntine e le vedremo in una mappa. Se noi inseriamo il campo name praticamente ci fa vedere con il mouse che tipo di evento stiamo indicando, quindi facciamo subito nel campo name che cosa ci mettiamo. Uguale, beh ci mettiamo come prima cosa per esempio la data, vedete? Poi utilizziamo un concatenatore che è le commerciale e ci mettiamo uno spazio, fra virgolette, concatenatore ancora e dopo la data che cosa ci vogliamo mettere? Ci vogliamo mettere il luogo in cui è avvenuto il terremoto e ancora concatenatore, spazio, concatenatore e ci vogliamo mettere per esempio la magnitudine. L'abbiamo fatto, vediamo che cosa vede fuori, vedete che nel campo nome verrebbe fuori la data, il luogo e la magnitudine. Adesso noi doppio cliccando questo elemento qua, la magniglietta, propaghiamo tutta questa modifica in tutto il nostro foglio di calcolo ed ecco che abbiamo personalizzato la serie storica che ci proveniva dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Adesso lo dobbiamo salvare come foglio separato da virgola csv ma ovviamente noi non utilizzeremo come separatore dei campi le virgole perché altrimenti fa un pasticcio perché le virgole sono qui presenti all'interno dei numeri come separazioni dei decimali. Allora andiamo nel menu file e facciamo salva come e noi indichiamo sempre lo mettiamo nella scrivania e gli indichiamo di metterlo come csv quindi foglio separato da virgole ma in realtà gli diremo che non è separato da virgole, ci scriviamo serie storica serie storica e non appena noi facciamo salva guardate che cosa ci fa il foglio di calcolo si premonisce e ci chiede ma in quale maniera te lo salvo? Allora noi diciamo che il delimitatore dei campi, il separatore dei campi vedete appunto il tab non la virgola perché sennò ci fa confusione mentre le stringhe di testo verranno delimitate con le solite virgolette queste qua lasciamo rifare, facciamo ok, vediamo che cosa ci fa, ce lo ritroviamo all'interno del nostro desktop se noi gli diamo un'occhiata per esempio tasto destro lo vediamo con un editor di testi vediamo che cosa succede, ci è andata bene perché tutte le entità data e le entità numeriche sono state individuate in giallo cioè sono dei numeri mentre le entità testuali siccome ci abbiamo messo le virgolette sono in grigetto e vediamo come individua bene il fatto che i decimali siano indicati dalla virgola e il separatore dei campi vedete che è la tabulazione, ci va bene adesso questo file così formattato può essere per esempio utilizzato da questo sito cgpsvisualizer prende dei file di testo di serie storiche che possono provenire da navigatori o da fogli di calcolo e li inserisce come elementi vettoriali all'interno di una mappa molto semplice noi facciamo scegli file e scegliamo proprio la nostra serie di storica csv con il separatore come tabulazione e poi gli diciamo che la mappa ci va bene, vediamo che cosa succede diamogli un pochino di tempo, sta elaborando adesso noi possiamo vedere la sovrapposizione delle nostre entità vettoriali che abbiamo gestito con il foglio di calcolo all'interno di una mappa come possiamo vedere noi capiamo che per esempio dal primo gennaio in quest'anno tutte le fenomenologie sismiche si sono sviluppate in questo asse qua come se si fossero sviluppate quasi tutte nel campo balcanico che cosa significa? noi abbiamo chiesto i terremoti al di sopra del quarto grado è come se malgrado il fatto che ci sia l'Etna in questo periodo che si sia risvegliato in realtà i terremoti più grandi stanno avvenendo tutti qua siccome noi abbiamo creato questo campo name che è un campo che utilizza il sito gps visualizer guardate che cosa succede se noi indugiamo sopra l'entità vettoriale ci viene quello che abbiamo messo nel campo name con il concatenatore di testo ampersano e commerciale vedete questo terremoto è capitato il 24 febbraio del 2021 nella Bosnia e ha la magnitudine di 4 questo qua in Austria magnitudine 4.2 questo qua in Grecia magnitudine 5.1 bene noi adesso in questa maniera abbiamo fatto vedere come si possono manipolare delle serie storiche provenienti in maniera esterna noi abbiamo usato l'istituto nazionale di geologia e vulcanologia inserirlo all'interno per esempio di un foglio di calcolo stando attenti al fatto che il separatore dei decimali sia la virgola e stando attenti a creare in una maniera molto corretta dei campi aggiuntivi come questo utilizzando per esempio la e-commerciale e poi trasformandolo in un file separato da virgole nuovamente che però questa volta abbia l'accortezza di avere come separatore dei campi diciamo la tabulazione per fare una serie di dati che possa essere comprensibile ad altri siti che cosa significa? se noi utilizziamo questi standard di base come il CSV separato da virgole possono essere utilizzati in tantissimi programmi differenti perché vengono tutti compresi noi abbiamo usato un foglio di calcolo i GIS per esempio dell'istituto nazionale di geologia e vulcanologia i GIS dei GPS visualizer eccetera perché tradurre delle serie storiche di dati in un file CSV significa poterlo utilizzare come sorgenti di dati esterne in una moltitudine di programmi bene il video finisce qui grazie a tutti per averlo seguito fino alla fine spero sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia grazie a tutti